L'argomento della settimana di Lino Barbieri, perché tu tratti sempre attraverso i tuoi monologhi, la satira, sempre temi di grande attualità. Quindi io ti lascio e ci raccomando... No, una canzone no, un monologo. È quasi un mese che si sente discutere, e dalla maggioranza dell'opposizione, di migranti. Alla fine, tra i due litiganti, il terzo soccombe, ossia i migranti. Secondo me, per porre fine a questo tipo di tragedie, dovreste unirvi per combattere lo stesso nemico, anzi due nemici, Europa e trafficanti. E non disunirvi con strumentalizzazioni isteriche e capricciose. La Meloni non è andata ai funerali di Cutro, ha preferito festeggiare il compleanno con Salvini. La sinistra è governata per undici anni e ora il problema migrante l'ha mai risolvuto noi da tre quattro mesi. La verità, sapete qual è? Sono anni che sento parlare di integrazione. Ma io, ma anche loro, non abbiamo mai visto un fratello africano lavorare in banca? Oppure che ne so, lavorare alle poste, alla scuola? Ma, bensì ne ho visti davvero tanti, ai semafori, nelle piazze di spaccio, sfruttati nei campi come le bestie, accolti da noi, perché diciamo che noi facciamo accoglienze, in delle tende e lasciati lì a marcire per anni, circondati da cumuli di immondizia, che persino dei topi indignati hanno esclamato. E che, niente di meno, ma anche le nostre fogne, le nostre fogne a confronto sono un hotello a cinque stelle. Cari nostri governanti, se questo si chiama integrazione, ma allora siamo a cavallo. Abbiamo risolto. Gli integrati, gli immigranti, sono perfettamente integrati. E che stai? Lino Barbieri!